L'ospite di oggi è Mercedes Bresso. Non c'è dubbio che le politiche di austerità che sono state portate avanti in questi anni hanno avuto come conseguenza il ritorno di discorsi nazionalisti, sovranisti. Ci siamo battuti per introdurre le liste transnazionali che sarebbero un vero spazio di dibattito politico europeo per andare avanti e fare sempre cose nuove.